La spuntata lui e sinceramente non avevamo dubbi. Al timone c'è Claudio Lotito, anche se il cognato Mezzaroma stacca gli assegni. Gregucci non resta, ma questo lo si era capito da un bel po' di tempo. A nulla sono valse le dichiarazioni di stima di Mezzaroma nei riguardi dell'allenatore pugliese. Le condizioni di rinnovo offerte a Gregucci dalla Salernitana, recita la nota ufficiale, non sono state accettate dal tecnico. Ma sarà veramente così? Bisognerebbe capire quali fossero le condizioni proposte, tant'è. Passa la linea Lotito quindi, che adesso è pronto a rilanciare la Salernitana con un progetto nuovo insieme al DS Fabiani. Giovani in primis, ma anche uno zoccolo duro di calciatori esperti. Di sicuro si taglieranno i ponti con molti dei protagonisti in granata delle ultime stagioni. E per la Lega Pro si prospetta un futuro sempre più complicato, con l'abrogazione da parte della FIGC delle comproprietà. Le società non potranno vendere i cartellini dei propri calciatori se non a titolo definitivo. Ma in Italia, come si dice sempre, fatta la legge è trovato l'inganno. Resta infatti la possibilità di far cassa con i cosiddetti prestiti onerosi. Non è la stessa cosa delle comproprietà, ma comunque una chance per contabilizzare entrate fin da subito. Passiamo alla Paganese. Continua il lavoro di organizzazione della sette dirigenziale. Il presidente Raffaele Trapani ci sta provando in tutti i modi a mettere a segno importanti tasselli da inserire nel quadro dirigenziale. È partito dal settore giovanile, con l'incarico affidato a Natalino Mazzeo e con la possibile conferma di molti dei validi tecnici che hanno guidato le sue squadre della stagione appena conclusa. Adesso tocca al ruolo di direttore sportivo. Gioacchino Novelli, ex Melfi, già in passato accostato al sudalizio azzurro stellato, potrebbe essere la novità più importante sul fronte allenatore, quindi si aspetterà ancora qualche giorno, ma dalla prossima settimana anche il progetto tecnico dovrà cominciare per trovarsi in anticipo rispetto alla concorrenza.